Il padre e il figlio di 81 e 47 anni muoiono forse per le esalazioni mentre lavoravano nella sede della cantina storica del cardinale a Gioia del Colle. Il più giovane stava pulendo una cisterna quando ci sarebbe finito dentro e il padre sarebbe intervenuto per aiutarlo. Un intervento lungo 18 chilometri per 13,5 milioni di euro sono questi i numeri più importanti dell'intervento sul nuovo sistema idrico e fognario della località balneare di Torre Mileto nel Gargano. La ASL Bari ha attivato un nuovo ambulatorio di fragilità, terapia del dolore, cure palliative a Grumo Apula. Sono 442 i pazienti presi in carico dalle cure palliative su tutto il territorio di competenza lo scorso anno. Le notizie da Bari, Battefoggia ben ritrovati. Intanto è rientrato l'allarme a Palazzo Candido a Trani, sede del Tribunale Civile, evacuato questa mattina dopo una telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba nell'immobile. Ci dice tutto in diretta. Maria Fiorella, Maria. Allora, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi siamo dinanzi a Palazzo Candido che è stato interessato da un falso allarme questa mattina alle ore 9.30 da una telefonata che è arrivata direttamente in commissariato che denunciava la presenza di un ordigno immobile, quindi una bomba. Successivamente è stato evacuato il palazzo che sarebbe appunto sede del Tribunale Civile e sarebbero giunte sul posto squadre di artificieri e cinofili che hanno ispezionato l'intero edificio. Ora, al momento, lo stabile è completamente vuoto, sono stati interrotti i lavori, quindi durante la giornata di oggi non si terranno udienze. Abbiamo visto passare alcuni addetti ai lavori che, insomma, sono tornati indietro. Al momento alcun'altra informazione sia dall'interno dell'edificio sia dalle autorità competenti, quindi rimanderei la linea allo studio. Grazie, grazie a Maria Fiorella. Andiamo avanti ancora con la cronaca. Il figlio stava ripulendo una cisterna quando probabilmente a causa delle esalazioni sarebbe caduto all'interno. Il padre poi, nel tentativo di salvarlo, sarebbe caduto a sua volta perdendo la vita tragedia sul lavoro a Gioia del Colle nella sede della cantina storica del Cardinale. Vediamo. Una storia che ricorda molto il caso della Track Center di Molfetta, dove il 3 marzo del 2008 morirono 5 perai per le esalazioni di acido solfidrico sviluppatisi in una cisterna per il trasporto dello zolfo liquido che stavano bonificando. Questa volta a perdere la vita sono padre e figlio di 81 e 47 anni. L'episodio a Gioia del Colle in via De Nicola, nella sede della cantina storica del Cardinale, poco fuori il centro città. Filippo Colapinto, il più giovane dei due, stava pulendo una cisterna contenente vino e sarebbe caduto all'interno, forse perché già stordito dalle esalazioni. Immediato l'intervento del padre Giovanni, che per aiutare il figlio e nel tentativo di salvarlo, sarebbe caduto a sua volta. I corpi dei due sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sarebbero state alquanto complesse. Secondo una prima analisi, i due sarebbero morti per le esalazioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche il PM di turno, Lanfranco Marazia della Procura di Bari e il medico legale Francesco Vinci, che nelle prossime ore dovrebbe stabilire le cause ufficiali del decesso. Spaccio di stupefacenti, sgominato una gang a Molfetta dai carabinieri del comando provinciale 17, le misure cautelari. Domenico Brandonisio. 15 persone arrestate e due agli arresti domiciliari nel comune di Molfetta. Il tutto è dovuto al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza a carico di 17 soggetti indagati, poiché avrebbero partecipato ad un sodalizio, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, in debito utilizzo di dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti e furto aggravato. Le misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Bari, con il supporto dei militari del nucleo cinofili di Modugno ed emesse dal GIP del Tribunale di Trani sulla richiesta della locale procura. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani e condotte da febbraio a dicembre 2022, avrebbero poi consentito di delineare compiti e mansioni ben definite dei singoli. Oltre al sequestro di sostanze stupefacenti come cocaina, ascisce ed eroina, rinvenute e sequestrate due pistole e recuperati orologi e monili d'oro sottratti all'interno di un appartamento. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e seguirà l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo. L'utilizzo dei social è stato uno degli elementi che ha tirato la nostra attenzione sui soggetti in questione e assolutamente le donne hanno avuto un ruolo di fondamentale importanza, atteso che alcuni degli attuali, degli odierni indagati, sono stati arrestati in flagranza di reato nelle primissime settimane dell'attività. Pertanto le donne hanno svolto un ruolo fondamentale per la prosecuzione dell'attività di spaccio. Oltre 95 kg di hashish suddivisi in 920 panetti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Bari che ha arrestato un uomo con precedenti. L'uomo a bordo di un'auto ritenuta sospetta dai finanzieri è stato fermato in un'area di parcheggio. Qui al termine delle verifiche le forze dell'ordine hanno scoperto l'ingente quantitativo di droga nascosto nel bagagliaio. Secondo le stime dei militari, se immessa sul mercato la droga avrebbe permesso ricavi per circa un milione di euro. Cambiamo argomento. Creati 50 mila posti di lavoro in più, ma male occupazione di giovani e donne. Il primo dato che emerge dall'annuale report di Banca Italia sull'economia pugliese. Antonio Bucci. La direzione è quella giusta, la velocità è positiva, purtroppo siamo ancora un po' distanti. Insomma le parti migliori del paese ci danno ancora una pista. Riassumono così da Banca Italia lo stato dell'economia pugliese. La regione recupera post pandemia due punti in più sul 2019, ma non basta a cantare vittoria. Fa segnare il 5% in più sull'occupazione, che vuol dire 50 mila unità, dato positivo trasversalmente a genere e classi di età, e contratti a tempo indeterminato che stabilizzano un trend del 2021. Ma gli ascensori sociali sono arrugginiti e il valore aggiunto dell'industria si indebolisce come l'agricoltura. Picco vergognoso verso il basso dell'occupazione, soprattutto della qualità dell'occupazione, dell'occupazione soprattutto nei confronti di quelle che sono, se vogliamo, le componenti più vivaci, ma anche più fragili della società. E parliamo delle donne, dei giovani e di tutti i portatori di diversità. A trainare in compenso sono turismo, servizi e costruzioni. Le ultime beneficeranno del traino del PNRR, che potrebbe tradursi in 11 punti percentuali all'anno fino al 2026 e fino a 7 mila lavoratori ogni anno. In valori assoluti, però, si resta indietro al gruppo di testa della corsa e l'inflazione ero del potere d'acquisto delle famiglie. Voglio ricordare che la Puglia è l'unica regione del sud ad avere tutti e tre gli indicatori delle prestazioni sanitarie positivi. Legge popolare che unisca lavoratori e imprese. Attenzione ai fondi PNRR, il numero uno nazionale della CISL, sbarra, fa il punto nella sua tappa nel capologo pugliese. Libertà e partecipazione, cantava Gaber. In questo caso, la prima parola citata può essere sostituita da lavoro. La CISL, anche a Bari, presenta il suo piano di proposta di legge e di iniziativa popolare dal titolo partecipazione al lavoro, appunto, è già depositata alla Corte di Cassazione di Roma. Al via, una raccolta di firme su tutto il territorio nazionale, con la quale si intende dare piena applicazione all'articolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Per noi la partecipazione incrocia, soprattutto oggi, le tante sfide che il Paese ha davanti. Ci può aiutare ad aumentare salari e retribuzioni, a dare stabilità e qualità al lavoro, a ridurre l'orario di lavoro, ad investire meglio sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Fondamentale, poi, una corretta gestione del PNRR. Non possiamo rischiare di perdere una straordinaria opportunità che può aiutare questo Paese a incamminarsi sul versante della crescita, dello sviluppo, della buona occupazione, soprattutto nelle aree del mezzogiorno. Ecco perché, diciamo, al Governo l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deve essere accompagnato con una governance partecipata dalle forze sociali e dai poteri locali. Favorevole, per conto di Confindustria, anche Sergio Fontana. Che benissimo benvenga la partecipazione da parte dei nostri dipendenti a quella che è la creazione di ricchezza di un'impresa e quindi, per esempio, a condividere quelli che sono gli obiettivi, a stabilire insieme quali sono i premi. Continuiamo a parlare di lavoro, contratto firmato per 12 giovani pugliesi che si impegnano a studiare ma già hanno una garanzia in tasca a cordo fra regione ed enti di formazione. Questo modello degli FTS è particolare perché invece di prevedere un corso e poi dopo il tirocini e poi dopo l'assunzione, qui si prevede l'assunzione prima di partire col corso. Contratto di lavoro appena firmato per 12 giovani pugliesi si impegnano a studiare ma lo fanno con la garanzia di un accordo già in tasca sin dal primo giorno in aula. Si tratta di apprendisti. In meno di un anno si formeranno con un percorso autorizzato dalla regione e puntano a diventare esperti nella progettazione e nello sviluppo di applicazioni informatiche. Si chiama formazione e assunzione. Può contare su partner come l'Academy di Joven React per Accenture promosso dai FOA con gruppi del Mezzogiorno, Politecnico e Istituto Marconi. Sono under 25. In pochi mesi otterranno la certificazione GIFTS. Troviamo un grande beneficio nell'inserire nel mondo del lavoro giovani talenti. Il nostro obiettivo è trovare giovani talenti. Quindi non siamo l'azienda ospitante che si limita in qualche modo a fare la formazione e alla fine della formazione, arrivederci a Grazie, noi vogliamo assumerli. Noi chiediamo specialmente in questi discorsi anche, direi, alternativi perché, è chiaro, l'università forma in una certa maniera, non è di questo che parliamo, però favorire anche l'inserimento di altre figure professionali, di persone che hanno dei ruoli diversi, soprattutto in alcuni settori dove è difficile oggi trovare ragazzi e ragazze disponibili ad essere assunti. Un luogo dedicato non solo allo studio, ma anche alla lettura ed uno spazio multifunzionale. Con un finanziamento regionale da 890 mila euro, anche Palo del Colle può vantare la sua prima community library. Era agosto del 2017 quando la giunta comunale approvò la delibera con cui si avviò il procedimento per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'avviso pubblico community library per la progettazione di una vera biblioteca di comunità nei locali a piano terra che affacciano su via Umberto I, via Vespucci e via Alfieri per una superficie di circa 450 metri quadri. Con un finanziamento da 890 mila euro, oggi Palo del Colle nel Barese può vantare questa nuova realtà, la sua prima biblioteca di comunità. Un luogo dedicato non solo al classico reperimento di informazione, allo studio e alla lettura, ma anche uno spazio pubblico multifunzionale in cui poter studiare, fare incontri, conferenze, esposizioni, confrontarsi e creare nuove idee per la città. È una bellissima sede, una nuova biblioteca comunale, resa possibile grazie al finanziamento regionale del bando community library, ci ha visti impegnati come amministrazione ad ereditare un percorso che era già stato avviato, che abbiamo concluso nelle ultime settimane. Gli arredi, i libri al loro posto, il coinvolgimento del territorio, la capacità di fare rete per riempire di contenuti questi luoghi sarà la scommessa rispetto alla quale sono sicuro che la città avrà voglia di vincere la partita. La biblioteca è aperta a chiunque voglia utilizzarla, frequentarla, anzi saremo noi stessi da me il primo a chiedere che questi spazi vengano utilizzati il più possibile per fare in modo che possano vivere realmente tra la gente. Tornano le province forse già nel 2024 con tanto di elezione diretta del Presidente e cittadini alle urne, 15 articoli e un disegno di legge già depositato e sui tavoli della Commissione Affari Costituzionali del Senato. La notizia era nell'aria da tempo ma adesso si fa concreta, tornano le province e lo fanno con tanto di elezione diretta del Presidente e dei consiglieri. Il tam-tam sul ritorno in archivio della riforma del Rio si ricorreva da tempo, nel 2014, la graduale cancellazione dell'ente. L'inversione ad U invece è arrivata nei giorni scorsi con un disegno di legge ad hoc. È il numero 57 ed è già sui tavoli della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Se l'iter dovesse accelerare il kick-off del nuovo assetto potrebbe arrivare già nel 2024 in un election day complessivo con comuni capoluogo ed elezioni europee, 15 articoli in tutto e pieni poteri agli enti provinciali, 40% dei voti validi oppure ballottaggio per eleggere il Presidente, 4 componenti nell'esecutivo per i territori fino a 500.000 abitanti che salgono ad 8. Se invece si supera il milione, le assemblee avrebbero tra i 20 e i 30 titolari di scranno con eletti affidati a collegi plurinominali, senza contare l'effetto domino sulle questioni politiche, un po' basi comunicanti sulle partite maggiori, un po' compensazioni negli equilibri tra le forze politiche. A volte ritornano, insomma, stavolta potrebbe mancare poco. Un intervento lungo, 18 chilometri per 13,5 milioni di euro. Sono questi i numeri più importanti dell'intervento sul nuovo sistema idrico e fognario della località balneare di Torre Mileto, nel Gargano. Antonella Davola. Grazie ad un intervento della Regione Puglia di 13,5 milioni di euro a Torre Mileto, uno dei tratti costieri del Gargano Nord più suggestivi della Puglia, arrivano a Acqua e Fognia. Ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa, svoltasi all'interno dell'antica torre aragonese, il Vice Presidente della Regione Puglia, Assessore alle Risorse Idriche Raffaele Piemontese ed il Sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vucale. L'Acquadotto Pugliese ha già realizzato lo studio di fattibilità. Alvia dunque il lavoro per l'elaborazione del progetto esecutivo che nel primo semestre 2025 porterà alla canterizzazione dei lavori che entro il 2027 consentiranno ai cittadini di allacciarsi alle nuove reti. Sì, era ora. I pochi imprenditori della zona che hanno resistito fino ad oggi sognavano questa cosa da decenni ormai. Nel 2023 era impensabile avere attività turistiche, economiche in genere con dei pozzi neri, con le cisterne per l'acqua, con tutto quello che ne può conseguire anche a livello d'immagine. Per cui oggi mettiamo le basi per questa progettazione che darà l'avvio dei lavori dal 2025 e dentro due anni noi potremmo dire se tutto va bene, va liscio, come dovrebbe andare perché stiamo facendo le cose per bene. Potremmo avere nel giro di qualche anno avremo acqua e fogna anche in questa parte di Gargano che ha necessità anche di svilupparsi ulteriormente. Quindi oggi con lo stanziamento di 13 milioni e mezzo di euro si è nelle condizioni di far partire il progetto che realizzerà questa opera importante che farà in modo che il nostro mare che abbiamo alle spalle possa essere più pulito perché evidentemente i sistemi idrici e fognari fanno bene anche al nostro mare. Costi più contenuti e aumenti limitati nel mondo delle avventure immobiliari Carrassi, San Pasquale e Palese a Bari piacciono ai giovani, gli under 36 invece scelgono proprio questi quartieri per l'acquisto della prima casa. Carrassi, zona della Chiesa Russa, Palese e San Pasquale sono le zone più gettonate per gli acquisti immobiliari degli under 36 e sono anche le zone dove gli aumenti al metro quadro sono decisamente più contenuti e l'analisi è effettuata dall'ufficio studi di un franchising di vendita di immobili sul capoluogo pugliese. Comprare casa a Bari quest'anno costa in media il 3,8% in più rispetto allo scorso anno. A Carrassi per esempio nel 2021 la richiesta media era di 1.100 euro al metro quadro nel 2022 è stata raggiunta quota 1.200. Nell'ultimo decennio le quotazioni sono salite del 9,1%. Passando a Palese, nel 2021 il costo medio al metro quadro era di 1.400 euro l'anno successivo era cresciuto di 100 euro. Su dieci anni il costo è diminuito dell'11,8%. Infine San Pasquale dove se due anni fa per una compravendita servivano in media 850 euro sempre al metro quadro, nel 2022 la richiesta era di 900 euro. In questo caso negli ultimi dieci anni si è registrato un vero e proprio crollo delle quotazioni scese del 40% e sono queste le caratteristiche che inducono i giovani a scegliere questi quartieri per l'acquisto della prima casa. Andiamo nella BAT composto ufficialmente la commissione d'indagine che a Barletta vigilerà sui lavori di Via Andria e Via Callano. Antonio Gargano Il comune di Barletta ha approvato il bilancio consuntivo 2022 come da programmi fissati dopo la diffida da parte della prefettura tra i provvedimenti del Consiglio Comunale di lunedì anche la nascita di una commissione d'indagine sui lavori di Via Andria e Via Callano. Il cantiere, stando all'ultimo cronoprogramma verrà completato entro la fine del 2023 e la nuova commissione vigilerà su quanto verrà svolto in questi mesi. A comporla i consiglieri di maggioranza Flavio Basile, Stella Mele e Letizia Rana e i consiglieri di opposizione Santa Scommegna e Rosa Tuputi. Con la commissione d'indagine in realtà noi vogliamo proprio dare un supporto maggiore sia agli uffici che all'impresa appaltatrice RFI per consentire anche che si rispettino i tempi che ci hanno indicato. Parte dei residenti hanno ottenuto l'esenzione dal pagamento di IMU e Tari del 2023 ma non mancano le polemiche per gli esclusi che ritengono di averne ugualmente diritto. L'amministrazione comunale annuncia la sua flessibilità e invita i cittadini a manifestare le necessità del caso con la possibilità di allargare il provvedimento, anche i residenti limitrofi. Situazioni cristallizzate in questa amministrazione come nella passata amministrazione Carnito non ci sono mai state. Voglio dire, posizioni rigide non le abbiamo mai avute. Quella è una prima idea che abbiamo portato in Consiglio Comunale e abbiamo consentito già ai primi residenti. Se vi sono delle situazioni che può essere che ci siano sfuggite siamo qui per ricevere le informazioni e i suggerimenti adatti per risolvere qualsiasi problema. Quindi faccio un appello tramite la vostra emittente che ringrazio di rivolgersi o direttamente a noi, a assessori o al sindaco o agli uffici perché valuteremo tutte le istanze che verranno dei residenti. L'Asl di Bari invece ha attivato un nuovo ambulatorio di fragilità, terapia del dolore e cure palliative a Grumo Apola. Sono 422 i pazienti presi in carico dalle cure palliative su tutto il territorio di competenza dell'Asl Bari. Vediamo. Dopo Conversano, Bitonto e Bari, l'Asl del Capologo completa la rete territoriale degli ambulatori dedicati ai trattamenti antalgici e per patologie croniche e oncologiche con il nuovo ambulatorio di fragilità, terapia del dolore e cure palliative all'interno del presidio territoriale di assistenza di Grumo Apola nel Barese. La struttura è preposta a prendersi carico dei pazienti che necessitano di cure palliative tramite una comunicazione diretta con il medico di medicina generale di riferimento. L'ambulatorio si occuperà non solo di dolore ma di sintomi direttamente associati alla malattia o correlati agli effetti collaterali dei trattamenti in atto di medicazione e di inserimento di accessi vascolari e a lungo termine che verranno prevalentemente seguiti a domicilio. Tra le prestazioni garantite anche consulenze di nutrizione nonché attività di counseling finalizzato alla definizione dell'entità dei bisogni del malato e della famiglia con l'obiettivo di identificare il setting assistenziale più adatto. Nel 2022 i presidi dislocati sul territorio di competenza della ASL Bari hanno preso in carico 422 pazienti dalle cure palliative. È un ambulatorio strategico perché si riferisce a una popolazione dell'area murgiana quindi non è solo grumo ma è tutta l'area fino ad Altamuna e fino a Gravina è un ambulatorio importante perché poi da questo ambulatorio si percorrerà un ulteriore progetto che è quello di arrivare a domicilio con l'equip diretta dal dottor Spaccavento e dai suoi collaboratori che poi è il futuro dell'assistenza territoriale quella di arrivare sempre di più in prossimità del domicilio. E invece le attività di Trani si preparano ad accogliere persone con disturbo dello spettro autistico oltre 80 adesioni alla seconda edizione di Trani Autism Friendly. La seconda edizione del Trani Autism Friendly ha più che raddoppiato le iscrizioni della prima edizione e la grande partecipazione cittadina permetterà di diffondere il bagaglio informativo e di fornire i migliori strumenti per affrontare il quotidiano in qualunque situazione. Obiettivo principale è coinvolgere sempre più soggetti in un protocollo che mira a migliorare la vita di persone con esigenze particolari, non impossibili. Un'importante risposta per le famiglie ma soprattutto per i ragazzi. Potremmo dare a questa comunità una ulteriore iniezione di consapevolezza sullo spettro autistico e soprattutto tutto quello che potremmo fare, che possiamo fare nel nostro quotidiano per poter rendere più accogliente possibile la nostra comunità soprattutto per quanto riguarda i servizi, gli esercenti, le attività commerciali. Trani Autism Friendly è promosso dal comune di Trani attraverso l'impiego di Fabrizio Ferrante operativo in qualità di ente capofila con la ASL BAT a rappresentare la parte scientifica. L'ASL BAT è sempre molto attenta e partecipe alla problematica legata ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Ci si prepara dunque ad entrare nella fase operativa attraverso corsi dedicati alla formazione specialistica per contribuire alla conoscenza base dei comportamenti da adottare nei confronti dei bisogni specifici per ciascuno dei soggetti coinvolti. Sono un dipendente dell'ufficio IT, del modulo SRL di Megamark, quindi mi occupo di configurazione, rieparazione e sostituzione di apparecchiature informatiche, hardware e software all'interno e all'esterno dell'azienda. Sto sempre imparando di più sia nell'ambito lavorativo che nell'ambito interpersonale con i colleghi e tutto. A Rodigarganico invece torna il campionato mondiale di Motosurf. Dal 16 al 18 giugno prossimi a Marina di Rodigarganico con la sua seconda edizione torna a far tappa il Motosurf World Championship. Quest'anno il campionato mondiale di Motosurf è tra gli eventi sportivi che sostengono la campagna di comunicazione Allenati contro la violenza. Promossa dagli assessorati regionali al welfare e allo sport per tutti, partita lo scorso novembre con l'obiettivo di diffondere un'attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il programma dell'evento sportivo è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo della Presidenza della Regione Puglia Bari. Tante le novità e innovazioni di quest'anno, a partire dall'introduzione di una categoria dedicata interamente all'elettrico. Quest'anno abbiamo novità di sostenibilità tecnologica perché stiamo lavorando per iniziare con nuovi sviluppi tecnologici come vogliamo implementare benzine alternative con zero impact del medioambientale. Ci aspettiamo un grandissimo afflusso di piloti, circa 120-130 piloti quest'anno, quindi abbiamo superato il 100 dell'anno scorso provenienti veramente da tutto il mondo, Cina, Giappone, Corea, Kuwait, America, quindi abbiamo toccato i quattro continenti. Le novità maggiori sono la presenza dell'Electric Challenge, quindi una categoria dedicata esclusivamente all'elettrico. Abbiamo i junior, ragazzi e ragazze che si sfideranno su queste tavole molto performanti e uno sport veramente molto accattivante che consiglio a tutti di venire a vedere. L'attrice Anna Foglietta è invece madrina della festa Rotary Club Andrea Castelli-Svevi. Mi fa sempre piuttosto impressione portare lo stesso nome di battesimo della più grande attrice di tutti i tempi. È come un faro, un modo di cercare ispirazione, qualcosa a cui ambire, quanto da guardare, ammirare, proteggere. Anna Foglietta parla così di Anna Magnani, straordinaria icona del cinema italiano, passata alla storia con le magistrali interpretazioni in pellicole come Roma, Città Aperta e Mamma Roma. Conscientemente, penso che oggi più che mai non devono le donne riunirsi. La brillante e poliedrica attrice romana, protagonista di Tutta colpa di Freud, Nessuno mi può giudicare, e Perfetti sconosciuti, è stata la madrina della festa dei 35 anni del Rotary Club Andrea Castelli-Svevi. È stata la prima amore. L'evento, intitolato Anna Verrà, ha rappresentato un omaggio al cinema italiano e in particolare all'indimenticabile Anna Magnani, di cui ricorre quest'anno il cinquantesimo dalla morte. Per cui forse è la più grande soddisfazione della vita mia. L'attrice romana ha raccontato la Roma contemporanea e la Roma di Anna Magnani, ha poi ripercorso la sua carriera, che l'ha portata a condurre un dopo-festival di Sanremo nel 2019. È tutto per questa edizione. Dopo la pubblicità, le notizie da Taranto, Brindisi e Lecce. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo.